Qui tutti quanti riuniti è la cosa più bella che in questi anni vi possa vedere perché voi siete il futuro di domani e dovete scendere in piazza anche svegliando i vostri genitori e anche le vostre famiglie perché quello che è successo in questi dieci anni è incredibile e purtroppo a volte è accaduto con il silenzio di molte persone per difendere i propri diritti e morte e ricordatevi una cosa che qui possiamo vivere solo se siamo abituati a lottare e a difendere democraticamente i nostri diritti e io vi dico soltanto una cosa continuate così per le cose serie e per le cose importanti poi c'è un gruppo di persone che sta seriamente lavorando ma senza il vostro supporto, senza la vostra presenza non possiamo arrivare da nessuna parte quindi io vi ringrazio vi ringrazio perché per me anche questo è coscienza civile, educazione civica quello che avete fatto oggi e che nelle scuole magari si parla solo teoricamente ragazzi ricordatevi una cosa essere cittadini significa prendersi le proprie responsabilità e assumersi anche il coraggio di protestare seriamente e anche duramente quando le cose non vanno grazie a tutti voi e grazie anche a tutti grazie e speriamo di portare a casa un ottimo risultato grazie a tutti voi